Al confine greco-macedone di Idomeni, alcune migliaia di migranti economici non possono proseguire il loro viaggio lungo la rutta balcanica. Nazim è iraniana, suo marito Abos è affegano. Lei non può passare la frontiera perché il suo non è un paese in guerra. L'alternativa a dividersi è quella di essere rimpatriati insieme in Iran. Per noi passare la frontiera è un problema perché dicono tu sei iraniana e tuo marito è affegano. E dicono che ci dobbiamo separare se desideriamo passare. E noi non vogliamo questo, vogliamo restare insieme. Il governo greco ha chiesto all'Unione Europea l'aiuto di mezzi navali e di personale per la verifica delle richieste d'asilo. L'esecutivo guidato da Alexis Tsipras respinge le critiche di ostruzionismo. Da maggio la Grecia sta insistentemente chiedendo un aiuto tecnico, tecnologico e di personale e quello che ha ricevuto dall'Europa è di gran lunga inferiore a quello che è stato chiesto. L'inverno non ferma il flusso incessante di profughi lungo la rotta balcanica e dopo la decisione della Macedonia di consentire l'ingresso nel paese ai soli profughi provenienti da zone di guerra cresce l'esasperazione tra i cittadini pakistani, iraniani, marocchini e somali.